Pubblicare un'applicazione Next.js con Azure Pipeline Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo a vedere come automatizzare il deployment di un'applicazione realizzata con Next.js tramite Azure Pipeline Sigla! Prima di automatizzare il processo andiamo a fare un passo passo andiamo a scrivere passo passo quello che dobbiamo fare in particolare andiamo a vedere 1. Devo fare una build ottimizzata dell'applicazione Next.js 2. Devo build ottimizzata per produzione dell'applicazione Next.js 2. Vado a utilizzare la modalità stand alone perché la modalità stand alone di Next.js è quella che permette di compilare l'applicazione in maniera tale che abbia tutte le dipendenze per funzionare senza dipendere dall'ambiente in cui viene inserita quindi si porta dietro tutte le sue librerie e ci facilita il deployment e abbiamo meno dipendenze dall'ambiente in cui andiamo a installarlo il 3. Andiamo a creare una pipeline che automatizza e usiamo Azure Pipeline pipeline che automatizza la build quindi parliamo di continuous integration poi il passo 4 è quello di andare a pubblicare applicazione quindi facciamo un deployment su Azure App Service l'Azure App Service è il servizio di Azure che appunto ospita le applicazioni web è compatibile con Node.js 18 che è il requisito minimo per Next supporta anche la 20 comunque utilizzeremo il 18 e il 20 quello che ci capita non importa perché sono entrambi supportati sia da Azure App Service che da Next quello che andiamo a fare è realizzare quindi dell'automazione che è dato il repository git con l'applicazione di esempio che abbiamo appena visto ogni qualvolta viene fatto un aggiornamento dei sorgenti quindi una sorta di trigger ma poi è facoltativo o meno quindi comunque un aggiornamento dei sorgenti su per esempio main o master quello che noi andiamo a fare è andare a fare una pipeline di continuous integration che compila produce un artefatto questo artefatto viene preso viene caricato all'interno degli artefatti disponibili in Azure DevOps collegati alla pipeline di continuous integration poi andiamo a fare una pipeline di continuous deployment che quello che andiamo a fare in un determinato ambiente nel mio Azure in questo caso che uso per fare le prove possiamo considerare un ambiente di produzione eccetera quello che ci interessa andiamo a fare uno il download dell'artifact download insomma ci siamo capiti e poi vado a fare il nell'Aden vado a fare poi il deploy su Azure ok? quindi semplicemente questo è il processo che è di application life cycle management che andiamo a realizzare per prima cosa creo un'applicazione next.js vuota faccio npm install create next app e poi faccio npx create next app do il nome al mio progetto gli diamo my app would you like to use TypeScript? gli dico sì yes lint sì gli do tutti i default intanto non mi interessa particolarmente l'applicazione in sé ma mi interessa il deployment e come farla arrivare su un Azure App Service utilizzando Azure Pipeline would you like to customize the default in PortAlias? no ok quindi qui abbiamo la creazione del progetto attendiamo ok si è completato ora sono nell'ambiente di sviluppo con la mia applicazione posso farla partire con npx nextdev che la fa partire in modalità di sviluppo qui parte la nostra applicazione il nostro obiettivo è ora quello di compilare l'applicazione next.js per un scenario production ready e da documentazione quello che dobbiamo utilizzare è il comando next build potrei utilizzare npx next build oppure posso anche visto che ho gli script nel mio file package json posso utilizzare npm run build quindi mi metto nella cartella della applicazione dove ho i miei package json json lock eccetera vado a fare npm run build ecco che parte il motore di next.js per compilare ottimizzando la build e lo lasciamo lavorare perfetto questa è la applicazione il risultato viene scritto dentro la cartella punto next next con tutti i suoi artefatti quello che abbiamo fatto appena adesso era una build diciamo standard senza lo stand alone quindi con tutte le dipendenze già incluse nell'output allora per attivare la modalità stand alone vado dentro il file next config js e vado ad aggiungere la configurazione output due punti stand alone in questo modo poi adesso vado a rieseguire la build andiamo a vedere che l'output cambia leggermente o meglio ci sarà una cartella in più adesso arriva eccola che si chiama stand alone che al suo interno ha anche un file server js che serve per far partire appunto il server che arriverà la nostra applicazione il suo inode module il next stesso c'è tutto quanto in questa cartella questo era un passo decisamente importante poi per andare a rendere diciamo deployabile la nostra applicazione dovremo spostare la cartellina static e la cartellina public lo facciamo con dello script andiamo a vedere in una pipeline come fare ora sono dentro il mio Azure DevOps dove ho i sorgenti vado a fare una nuova pipeline quindi vado nel menu pipeline faccio un new la chiamo dopo diamo il nome azure repos git prendo il mio repository nextjs faccio una starter perché poi sovrascrivo tutto il contenuto che ce l'ho già pronta la chiamo ci.yaml perché è una pipeline di continuous integration eccola qua andiamo a commentarmi il contenuto quindi parte ogni volta che c'è un cambiamento sul branch master nello specifico quando cambio qualcosa dentro la cartella src questo è il nome dello zip è una variabile che vado a utilizzare per specificare il nome dello zip che poi utilizzo come artifact che viene composto alla fine vado ad utilizzare una virtual machine di tipo ubuntu dai microsoft hosted agent va bene a tutti i tool a bordo che mi servono e vediamo che job faccio un job solo che l'ho chiamato build e andiamo a vedere gli step che vengono fatti dentro quindi mi assicuro che ci sia con il node tool la versione 20 che è l'ultima versione la versione più alta con cui next.js è compatibile faccio il restore dei package con il comando ci che va ad utilizzare il file package.lock.json in maniera tale da avere una distinta base delle dipendenze fino all'ultima foglia diciamo con quella versione ben specifica sono sicuro che è sempre quello e non cambia a meno di appuntazioni specifiche faccio la build il comando per la build di produzione di next è next build che lo vado a richiamare con npm build perché nel mio package json ho questo script configurato vado a creare con un po' di copy file la struttura di cartelle qui mi sono fatto dei controlli adesso li andiamo a rifare una alla volta qui dovevo andare a creare questa struttura questo artefatto questa struttura qui nel mio agent allora all'interno dell'agent di azure devops c'è una cartellina che si chiama build artifact staging directory che è una directory appunto che io posso accedere tramite questa variabile di sistema che posso utilizzare per comporre il mio artefatto che poi vado a caricare a pubblicare quindi devo creare un artefatto con questa struttura la prima cosa che vado a fare è prendermi la cartella stand alone e metto tutto il contenuto della cartella stand alone con questo appunto doppio asterisco prendo tutto ricorsivamente e lo metto in build artifact staging directory quindi prendo la cartella stand alone di output che abbiamo visto prima e ci vado a mettere tutto il contenuto a questo punto posso segnarmi che next è fatta non la statica la statica andiamo a mettere tra poco node module package e server js con il primo copy task che è qui con il primo copy questo è stato fatto infine andiamo a mettere la cartella public folder mi copio build associate directory barra public che è dove metto i file statici nei miei sorgenti gli asset statici nei sorgenti quindi può essere qualche immagine e così via e li copio nella cartellina artifact staging directory barra public quindi li copio qui dentro e anche questa è fatta e poi vado a portare la cartella static folder anche questa per degli asset statici e quindi va messa dentro next static vado a prendermi punto next barra static e lo metto nell'artifact staging directory a questo punto non mi resta fare altro che prendere il contenuto della build artifact staging directory e farne un bello zip e poi con il publish pipeline artifact pubblico questo artefatto come allegato al run della mia pipeline per poter essere poi utilizzato successivamente quindi essere quindi farne il deployment da qualche parte a questo punto posso fare un bel save and run vediamo la pipeline in azione e vediamo se va tutto bene eccola qui metto in pausa vediamo che l'esecuzione prosegue sta facendo ha impostato la versione di no dalla 20 fatto il restore dei pacchetti ora sta facendo la build di produzione andiamo avanti qui dovremo vedere un po' di log che vanno metto in pausa siamo in fine eccola qui ha fatto tutti i passaggi andiamo a vedere l'artefatto che è stato prodotto è questo zip che vado a scaricare per controllarne il contenuto ed effettivamente assicurarmi che ci sia tutto vado ad aprire il pacchetto e eccoci qua abbiamo il next con dentro abbiamo la cartellina static abbiamo node module public package.json e un importantissimo server.js che è quello che ci servirà per fare partire l'applicazione nel server di destinazione questo è un punto chiave perché adesso facciamo l'esempio estrago la mia applicazione e facciamo finta che venga eseguita sul server ecco i file sono stati estratti quindi apro qui terminal e faccio node server.js a questo punto l'applicazione parte e risponde su localhost 3000 a questo punto vado a creare la pipeline di deployment quindi entro sempre nel menu pipeline del mio progetto faccio new pipeline sempre qui dentro il mio repository nextapp.js e faccio starter che poi sostituisco con un contenuto che andiamo a commentare faccio cd che sta per continuous deployment punto yaml questa quindi questa pipeline prende da dove l'altra ha interrotto e andiamo a commentarlo andiamo qui allora questa cosa del tree vado a creare delle variabili che sono tutti i miei parametri per il deployment quindi vado a fare io ho già predisposto nel mio portale azure un app service con sistema operativo linux e quindi pronto e anche con node 20 quindi vado questo qui è un'operazione preliminare che ho già fatto che non è lo scopo di questo questo video però diciamo che ho un server su azure pronto una web app un app service per ospitare la mia applicazione che avrà pubblicata su questo indirizzo quindi vado a mettere nelle variabili tutti i parametri l'azure location è una italy north il nome del resource group che sono tutti i parametri che prendo da azure quindi tipo resource group è rg next up tutorial il mio subscription id la subscription name o meglio questo è il nome della service connection che ho dovuto creare tra azure devops che si creano qui nelle configurazioni di progetto service connection rimando alla documentazione ufficiale microsoft su come creare una service connection cioè permette quindi ad azure devops di dare comandi nel portale di azure nel cloud ok quindi c'è un dialogo un canale di comunicazione tramite delle credenziali che vengono specificate tramite la service connection quindi questo è il nome della service connection che ho dichiarato azure next up tutorial eccola qui e poi vado a dire il nome della web app web app next up tutorial che è questo qui e infine vado a specificare per essere sempre sicuro node versione 20 e il comando di startup node server js che è lo stesso che abbiamo dato prima a mano che deve essere fatto in automatico dalla pipeline per fare questo questa è una pipeline di deployment quindi vado a dichiarare che va a consumare una risorsa allegata all'esecuzione della pipeline next up che il nome qui è importante questo è il nome della pipeline che produce l'artefatto quindi vado qui ed è da essere questo il nome che compare qui next up js questo è il nome della pipeline questo qua il nome deve corrispondere questo qui invece è un nome di reference un id interno quindi quando voglio all'interno dei miei job dei miei step qui sotto nello yaml referenziare questa definizione utilizzerò questo next up js che fa riferimento appunto alla pipeline next up js e voglio che tutto questo questa pipeline di continuous deployment parte in automatico quando c'è una nuova versione dell'artefatti prodotti appunto da questa pipeline vado ad utilizzare un job di tipo deployment non è un job diciamo normale liscio come siamo abituati di solito qua siamo nella parte di deployment quindi utilizzo un deployment job perché in automatico come primo step qui non è dichiarato perché appunto è implicito in questo tipo di job va a scaricare l'artefatto prodotto dal pipeline che io attacco possono essere anche più di uno in questo caso uno solo e viene scaricato nella cartellina pipeline.workspace barra nome della pipeline che io vado a che vado a dichiarare ecco appunto vado ad utilizzare il task questo qui azure app service deploy che è un task di quelli predefiniti di azure devops che mi permette di caricare di fare un deployment di un'applicazione all'interno di un app service quindi faccio il deployment con i parametri che abbiamo visto prima le connessioni di tipo azure resource manager la subscription abbiamo visto prima è un'applicazione linux il nome della mia web app il pacchetto che vado a prendere dagli artefatti che ho scaricato faccio una ricerca in tutta la pipeline workspace che è una cartellina dove vengono scaricati gli artefatti dall'agent vado a cercare lo zip con questa sintassi ricorsiva vado a prendermi lo zip che ho fatto prima in questo caso ne ho uno e uno solo per forza è lui il runtime stack è il parametro che ho dichiarato sopra la variabile che ho dichiarato sopra lo startup command è quello quindi faccio save and run e andiamo a vedere il deployment è in coda perché voglio l'accesso la prima volta all'ambiente virtuale mfet che ho creato nella definizione della pipeline perché è tipico dei deployment job avere un environment di riferimento sono questi qui environments e ne ho utilizzato uno fittizio virtuale diciamo non ha un significato particolare così poi si vedono tutti i deployment che hanno interessato questo ambiente quindi la pipeline è partita andiamo a vedere eccola qui poi magari gli diamo anche un nome decente andiamo dentro qui sta facendo un pochino le bizze sta rallentando ok faccio rename e la chiamo next up deploy giusto perché questo uno è un po' bruttino adesso facendo il refresh dovremmo vederla eccola qua next up deployment intanto è partita sta andando vediamo cosa sta combinando deploy on Azure andiamo a vedere ha scaricato l'artifact quindi si è trovato il suo ha scaricato il suo zip in locale nell'agent e sta facendo il deployment nell'app service successfully deployed web package to app service sta controllando le configurazioni node 20 e la command line sta dando la riga di comando da far partire dopo il deployment quindi node server js updated app service configuration adesso qui quando ha finito dove ci dà spunta verde e andiamo a navigare all'indirizzo che ci viene sempre scritto qui nei log oppure possiamo andare qui sempre dal portale a cliccare però dovrebbe dovrebbe venire fuori aggiorniamo essendo il primo deployment magari il server era un po' in ancora freddo per così dire metto un attimo in pausa eccolo si è sbloccato faccio ritorno qui application url ci clicco sopra appunto è il primo avvio quindi il server potrebbe metterci qualche secondo in più vediamo che sta facendo la rotating pizza sta girando ed eccolo che è arrivato ci ha messo circa un minutino quindi non c'è da prendere paura è solo la prima volta che appunto il server tutta l'infrastruttura in Azure era appena stata creata non era mai stata utilizzata quindi magari le risorse non erano ancora completamente allocate nel data center comunque l'applicazione funziona e la pagina risponde bene per oggi con next e azure pipeline ci fermiamo qui anche perché abbiamo fatto comunque il giro completo e mi raccomando se da questo video hai imparato qualcosa oppure ti è piaciuto metti un mi piace e iscriviti al canale quello che sarai notificato sulle prossime uscite ciao ciao